buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo un navigatore per auto o per camper o per camion eccolo qui il brand non è sconosciuto è un brand che io già conosco che produce anche accessori adattatori android auto quindi non è un brand sconosciuto ma tutt'altro è un brand di qualità nella confezione trovate il braccio con la ventola per attaccarlo al vostro vetro adesso magari ve lo faccio vedere poi trovate il cavo per collegarlo al pc perché per aggiornare le mappe è necessario collegarlo al pc ecco qua il la ventosa molto solida una plastica molto robusta le istruzioni sono anche in italiano e c'è scritto che per aggiornarlo bisogna collegarsi al loro sito per scaricare le mappe in questo momento io ho inserito una micro sd e ho provato a riprodurre un video però è abbastanza diludente il risultato perché il video va a scatti mi è uscito un errore quindi diciamo che se volete ascoltare la musica può anche andare bene infatti adesso sto ascoltando un brano mp3 che era inserito nella sd per i video non ve lo consiglio sinceramente non non è non ha avuto un bel risultato anche perché lo schermo a me ha sinceramente deluso non è molto luminoso e i colori non sono non sono naturali sono sbiaditi quindi purtroppo la la qualità del display è deludente mentre la qualità del case e la qualità delle casse è molto molto buona qui c'è la cassa la cassa integrata qui è per attaccarlo naturalmente al al supporto qui stiamo dando l'alimentazione c'è la predisposizione per la retrocamera e qui c'è la presina micro sd che ho inserito con musica e i filmati questo è il tasto accensione che va tenuto premuto non c'è altro è comunque un un display bello bello grande non è non è piccolo torniamo a lui eccolo qua torniamo a lui e andiamo usciamo dalla funzione multimediale e andiamo a quello che è il core business del di questo di questo navigatore cioè la navigazione vi faccio vedere c'è anche la calcolatrice e il cambio di valuta che può essere utile se magari andate fuori fuori europa e vedete la trasmissione alle casse della vostra auto o del vostro camion può venire o tramite l'fm quindi mettete questa stazione anche nella vostra radio fm e a quel punto potete potete ascoltare anziché tramite la cassa attraverso la la radio fm ma io invece vi consiglio di fare un collegamento bluetooth alla radio bluetooth del vostro della vostra auto e in questo caso sicuramente avrete un risultato migliore a livello audio oppure utilizzate solamente le le sue utilizzate solamente la sua cassa integrata che non è non è niente non è niente male in questo momento io sono dentro un un terrazzo chiuso e come vedete sta fixando senza problemi quindi buona ricezione del del segnale ecco qui l'avvio della funzione navigazione non è velocissimo questo questo navigatore a 250 megabyte di ram vi faccio vedere un attimo le opzioni per fortuna è tutto in italiano vedete possiamo fare molte personalizzazioni vedete qui è fluido è qui gira bene è carina anche l'animazione con la quale con la quale lui gira facciamo una prova vediamo non vedo la chiamata vocale quindi bisogna scrivere touch così così eh non è non è molto preciso o comunque bisogna attraverso ma vedete fa un po' le bizze qui bene attraverso la chiamata facciamo insieme si è abbastanza veloce ricorda anche un po' il tomtom come grafica e adesso chiaramente si è avviata ma io in questo momento non sono non sono in viaggio vediamo insieme alcune opzioni c'è anche la 3d vedete si mi ricorda mi ricorda abbastanza a tomtom sinceramente volevo vedere se ci sono i velox ma non mi pare facciamo tutto insieme in diretta rientriamo vedete ci mette un pochino no no non mi pare ci siano i velox questo è un peccato ma tant'è allora possiamo anche fare le conclusioni questo non vuole essere un video un video lunghissimo lui costa 100 euro secondo me è un no è un no perché il display non mi piace a questo prezzo si trovano anche delle soluzioni con display simili di come grandezza che però magari hanno anche android auto e carplay magari non con il gps integrato ma utilizzando il gps del del cellulare secondo me con 100 euro si può prendere qualcosa di quel tipo sono soluzioni da preferire anche perché poi abbiamo visto che la riproduzione multimediale è inesistente peccato perché questa marca comunque io ve la consiglio fa buoni prodotti andate nel loro sito e seguiteli perché io in generale mi sono sempre trovato bene con loro questo questo navigatore l'hanno un po' l'hanno un po' toppato forse sarebbe stato meglio avesse avuto più ram e avesse avuto anche gli autovelox ciao